Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo webinar del ciclo del palinsesto che Venture Thinking ha lanciato per approfondire le tematiche relative alle nuove competenze e le nuove esperienze sono necessarie alle PMI in questo momento di crisi. Oggi insomma ripercorremo un po' uno dei bei risultati per quanto mi riguarda del lockdown, ovvero durante il lockdown si è scatenato oltre a tutti i problemi che sono noti una creatività, diciamo che la mancanza dei vincoli fisici ha permesso alle persone di liberare molta creatività e molta fantasia e di quello di cui vi parleremo oggi è una di queste esperienze che è nata da questo percorso, da questo momento. Si tratta di Venture Thinking. Venture Thinking prima del lockdown era un'intuizione, un'intuizione per la quale nel mondo in cui viviamo era necessario ibridare un po' le competenze, le esperienze, non ragionare nei propri compartimenti stagni. Era un incontro tra filosofia, impresa, una cosa insomma una bella avventura. Quando è scoppiata l'emergenza Covid ci si è resi conto che questa non solo era un'esigenza diciamo quasi etica di condivisione ma forse era l'unica risposta per non lasciare che la parola ce la faremo insieme rimanesse appunto una parola solo raccontata e non declinata perché diciamo modelli non verticali, non lineari ma modelli diciamo complessi e di dialogo e di modelli ecosistemici potessero essere veramente forse l'unica soluzione per andare incontro alla estrema complessità che la crisi Covid ci ha lasciato accelerato tutto, i fenomeni sono ancora più interrelati e quindi quella che era un'intuizione diciamo legata quasi al pensiero di un incontro di pensiero è diventato una proposizione d'azione cioè come possiamo veramente riuscire ad uscire dalla crisi insieme e quindi dei professori universitari molto importanti, dei CEO, degli imprenditori, insomma dei filosofi, delle persone culturale sono messi insieme e hanno creato questo Think Action Tank che si chiama Venture Thinking che però ha subito detto sì ok bisogna trovare una soluzione, una strada reale per uscire dalla crisi insieme e quindi hanno ideato il programma Phoenix. Di tutte queste cose che riassumo oggi mi fa particolarmente piacere parlare con tre persone. Daniele Di Fausto che è uno dei founder di Venture Thinking che è amministratore legato di EFM che è una delle realtà insomma più innovative nella progettazione dell'abitare i luoghi attraverso il digitale e le dinamiche che nei luoghi esistono e con Andrea Pietrini che è una delle insomma Andrea Pietrini è uno dei fondatori del chairman di Your Group che è una delle realtà più notie che ha portato per prima in Italia concetti come il fractional executive insomma concetti che richiamano proprio al fatto che non dobbiamo stare isolati nei nostri silos e poi Jacopo Mele che ha tantissime definizioni per raccontarlo e a me piace quando lui si definisce digital life coach perché è una delle persone io lo conosco su vari aspetti che riesce a vedere il mondo un po' da una parte da parte diversa da pensieri laterali incrociati e non c'è nulla poi ha fatto tante cose 30 under 30 di Forbes è presidente di una bellissima fondazione si chiama Homo Ex Machina e managing partner in Dior Digital però soprattutto è una persona che riesce a vedere le cose da angolazioni diverse e questo mi sembra sia necessario queste tre persone insieme mi piace fa particolarmente piacere che siano qui perché sono persone che guardano i loro campi come un punto di partenza non un punto d'arrivo cioè non in difesa ma guardano sempre le relazioni che sono possibili aprire e non i perimetri che è necessario chiudere che questa prima ripeto del covid era una così un'ispirazione adesso è una necessità ma come si fa praticamente io credo che oggi ascolteremo delle idee ma soprattutto le soluzioni perché questo diventa pratica appunto il ne usciremo insieme non sia una petizione così una bella frase ma sia una realtà perché il business esca dalla crisi veramente il business ma poi tutto il mondo che ci circonda chiederei a Daniele Di Fausto di iniziare perché così ci racconta un pochino come io insomma l'ho riassunto ne sono stato testimone ma Daniele ha vissuto giorno e notte direi come è nato Venture Thinking e poi il programma Phoenix che ne ha generato ok grazie grazie Emiliano e buon pomeriggio a tutti ovviamente un saluto anche Andrea e Jacopo che è un vero piacere averli qui con noi allora per rispondere diciamo alla tua domanda come è nato Venture Thinking allora Venture Thinking è nato credo con un'esigenza abbastanza diffusa di superare i vari compartimenti delle competenze e di avviare diciamo un team tank in prima battuta che potesse rimettere al centro della discussione la parola impresa togliendo questa accezione diciamo istituzionale o aziendale come dal punto di vista legale ma ridando alla parola impresa un significato originario di scommessa, di avventura, di proposizione, di sfida, di scoperta cioè di un movimento del pensiero e dell'azione umana che va verso il nuovo e nel fare diciamo questa puntualizzazione anche la riscoperta però dell'importanza del pensiero filosofico quindi perché diciamo la filosofia e l'impresa messe insieme che poi se vuoi è la traduzione letterale in italiano della parola Venture Thinking Venture, impresa, thinking, pensiero messe insieme perché siamo, eravamo già in una fase in cui probabilmente stavamo vivendo una fase di cambiamento di nuovi modelli di pensiero e tutti i sistemi diciamo in voga fino a quel momento stavano facendo un po' fatica a fare da collante e quindi diciamo spesso che per cambiare è importante farsi le domande non dare subito delle risposte e allora così un po' a mo' di battuta il pensiero di avere una parte che non ha le risposte ma fa delle domande, pone dei quesiti e l'altra parte invece più esecutiva più pragmatica, più appunto ingegneristica l'unione di queste due cose era un'unione che noi abbiamo auspicato ovviamente con il Covid e tu l'hai accennato benissimo il team tank ha avuto come prima sfida nella sua costituzione il tema di quella che al momento era ed è ancora la crisi sanitaria ma che già dalla fine di aprile avevamo immaginato come conseguenze avere un impatto prima di tipo economico e poi di tipo sociale e nel fare questo pensiero diciamo il concetto principale che è emerso è il fatto che questa crisi era molto diversa rispetto alla crisi degli anni precedenti in particolare a quella del 2008 se quella crisi è stata caratterizzata da una crisi finanziaria in qualche modo indifferenziata per i vari soggetti del mercato invece questa crisi ha una peculiarità ha una caratteristica principale cioè è selettiva colpisce diverse tipologie di settori industriali e anche diverse tipologie di aziende in funzione anche al loro percorso storico di evoluzione e in particolare diciamo abbiamo identificato quattro tipologie quattro cluster di aziende e di settori la prima è quella delle aziende di tipo A cioè le aziende che paradossalmente in questa situazione sono in crescita e è sotto gli occhi di tutti i casi di aziende dell'internet tecnologico come Zoom, Teams o del Pharma o delle alcune tipologie del food che in questa fase diciamo sono cresciute per le necessità con gente poi ci sono le aziende di tipo B che noi definiamo in termini inglesi freeze cioè sono bloccate ma poi tendenzialmente riprenderanno e poi ci sono le due che sono oggetto della nostra iniziativa che sono le aziende di tipo C e le aziende di tipo D cioè quelle che hanno una parziale disruption quindi un parziale ripensamento del modello di business e un totale ripensamento e nel fare questo pensiero quindi al tipo C al tipo D abbiamo detto bah se c'è una tipologia che cresce e ce ne sono due in qualche modo che diminuiscono perché non affrontiamo questa situazione in maniera ecosistematica quindi anche con meccanismi eventualmente di solidarietà su cui quelli che crescono possono supportare la riduzione degli altri insieme e nell'identificare quali sono le tipologie di aziende in considerazione del tessuto italiano ci siamo rivolti però a un cluster delle piccole e medie imprese cioè se le grandi in qualche modo vuoi per politica manageriale per knowledge per capacità si erano attrezzate con temi di compliance di rischi le piccole e medie imprese da quel punto di vista oggettivamente sono un po' più in difficoltà e quindi abbiamo pensato in maniera concreta perché non mettiamo insieme 150 piccole e medie imprese di tipo C e DD che acceleriamo il loro percorso di trasformazione di revisione del modello di business in maniera tale che con le competenze delle grandi col mondo accademico e con management queste imprese nella loro totalità quindi senza avvantaggiare qualcuna possano in qualche modo fare un percorso un percorso di crescita questo è stato diciamo il nostro la nostra il nostro pensiero e il 2 maggio abbiamo lanciato questa iniziativa e devo dire da quel momento in poi abbiamo avuto un riscontro sul mercato e in particolare abbiamo avuto delle adesioni e in queste adesioni abbiamo intrattenuto delle discussioni con gli imprenditori con i manager almeno di una sessantina di imprese dove sono emersi dei trend e ad oggi proprio in questa giornata proprio con il contributo di Andrea Petini una delle cose che noi in qualche modo vorremmo mettere subito sul piatto è appunto lo scenario Your Group e in particolare Andrea da precursore da anni affronta questo tema della marginalità delle competenze delle piccole e medie imprese e credo che sia veramente importante oggi che in partenza Andrea ci possa dare una sua visione della situazione attuale dello scenario in cui in cui le piccole e medie imprese devono affrontare affrontavano già delle complessità prima ma ad oggi insomma in questo scenario complesso hanno una difficoltà maggiore e quindi vorrevo chiedere anche lì ad Andrea di darci il suo punto di vista della situazione corrente l'audio Andrea se rientro l'audio certo grazie grazie Daniele e un saluto a tutti allora sicuramente Your Group ha un punto di vista privilegiato da questo punto di vista un po' perché come dici tu è da anni che cerca di portare avanti in Italia questo concetto di competenze io dico sempre cerchiamo di essere evangelizzatori da questo punto di vista del piccolo e medio imprenditore che costituisce l'ossatura del nostro sistema produttivo peraltro in questo momento stiamo quasi 200 manager e quindi 200 sensori sul territorio nasciamo peraltro in un'area che è quella finanziaria che sicuramente è stata è quella che ha avuto non dico il primo perché il primo impatto forse non ha avuto le risorse umane in questo caso ma sicuramente l'area finanziaria sarà quella che avrà l'impatto maggiore nei prossimi nei prossimi mesi perché prima vivere dei inde cambiare il modello di business quindi anche il cambiare il modello di business poi dipende da quanti aziende sopravviveranno perché non si cambia un modello di business molto così velocemente la mia impressione è che appunto un po' per queste caratteristiche di aziende familiari che spesso hanno dove gli proiettori spesso hanno visto solo quel tipo di azienda magari non hanno avuto percorsi formazioni collaterali hanno imparato al nonno poi passato al figlio e poi al nipote per fare un classico esempio alla fine si sono trovati in un contesto nel quale appunto dal punto di vista dei ricavi in alcuni casi si sono completamente azzerati ci sono situazioni noi abbiamo clienti uno l'abbiamo visto anche con Jacopo dove da un giorno all'altro la società non ha fatturato più niente questo vale anche comunque per gruppi grandi e quindi naturalmente questo ha messo a dura prova la struttura di queste aziende a partire da quella finanziaria perché quando naturalmente i tuoi ricavi scendono a picco tu qualcosa devi fare per contrastare chiaramente l'azione l'azione diciamo delle istituzioni non è stata così tempestiva lo vediamo questo è un grosso problema perché di fronte a una situazione del genere sicuramente ogni minuto è vitale cioè il problema è che ogni minuto che passa chiude un'azienda e questo naturalmente chiaro che ci sono state alcune di queste che probabilmente proprio perché invece avevano avuto anche aziende piccole voglio dire che avevano avuto dei sistemi di risk management o comunque erano un po' più preparate sicuramente voglio dire saranno hanno affrontato questa situazione in maniera migliore anche quelle che soltanto avevano una riserva patrimoniale per utilizzare diciamo in questo momento io dico sempre lo ripeto spesso ma mi piace voglio dire dirlo che non esiste una finanza per la crisi esistono delle buone pratiche finanziarie che in periodi di crisi ti fanno sopravvivere in periodi di normale ti fanno prosperare quindi ragionevolmente chi già aveva una buona diciamo preparazione da questo punto di vista probabilmente affrontato questo periodo con un'altra diciamo con un'altra fiducia è vero è che per mia esperienza e questo lo dicono anche i giornali la cassa a disposizione delle aziende in generale variava da due mesi a due mesi e mezzo cioè nel senso la cassa aveva le aziende avevano in media due mesi due mesi e mezzo di cassa per poter sopravvivere ma il problema grosso non è nemmeno quello della cassa il problema è che le aziende in Italia e qua torno al tema delle competenze in particolare a quella della mia area hanno grossi problemi nella pianificazione perché naturalmente di fronte a scenari di questo genere la pianificazione diventa fondamentale perché è vero che questo non era un evento che poteva essere previsto però è anche vero che per diciamo simulare scenari devi in qualche modo avere delle competenze di pianificazione per dire se succede questo faccio questo se succede questo faccio questo perché poi alla fine la cassa diventa vitale la liquidità è quello che diciamo visto che diciamo questa grande potenza di fuoco che è stata promessa ma ancora non è arrivata allora le aziende in qualche modo si dovrebbero si dovrebbero attrezzare per conto loro quindi lo scenario è abbastanza complesso e sicuramente come dicono tutti non solo io io sono l'ultimo vuol dire le ripercussioni si avranno settembre ottobre quando effettivamente da una parte questo buffer di cassa comincerà a scendere o a essere consumato perché è chiaro che adesso le aziende se non altro dal punto di vista degli ammortizzatori sociali hanno potuto fare qualcosa ci sarà questo grande tema della cassa integrazione sarà prolungata sarà sospesa eccetera eccetera però in generale da ottobre in poi settembre ottobre le aziende dovranno in qualche modo veramente fare dei grandi ripensamenti diciamo su tutta la loro struttura perché e questo lo dico con esperienza la cosa positiva è che in Italia in generale magari non solo in Italia l'imprenditore si muove solo quando c'è un problema e molte delle cose si fanno per rispondere diciamo a un'esigenza a un problema che si è posto naturalmente questo è un po' diciamo la conferma del vecchio adagio chiudere la stalla quando i buoi sono scappati però anche vero che comunque una volta che i buoi ce li rimettiamo dentro questa volta però la stalla ce l'ha alla porta ecco questo per dire che comunque da una situazione del genere le imprese illuminate e poi concludo vuol dire potrebbero creare anche diciamo un vantaggio competitivo per il futuro anche partendo diciamo da una rispostazione organizzativa di tutte le loro aree funzionali mi sembra grazie 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 mille Andrea mi sembra molto interessante un po' per sintetizzare mi sembra di cogliere questo che se da una parte è importantissimo lavorare sul tema del breve termine del medio termine per attraverso le pianificazioni per risolvere in parte con gli aiuti governativi e in parte con la capacità interna nel tema della cassa però insomma hai posto un tema che va anche al di là che è quello di dire beh in questa occasione ci potrebbe essere la possibilità di rivedere i modelli di business e quindi trasformare in qualche modo per il futuro questa trasformazione del modello di business anche in un vantaggio competitivo come si dice non lasciamo che una crisi sia sprecata no? il famoso detto non sprechiamo questa crisi perché anche nella crisi del 2008 che come tu hai citato peraltro Iorcefo è nata in quel contesto quando c'era da ripensare completamente il rapporto con la banca che è stato storicamente e continua a essere diciamo l'azionista di maggioranza di tutte le aziende italiane ha cambiato completamente l'imprenditore si è trovato spiazzato a questo punto c'era la necessità di trovare un decodificatore di linguaggio tra la banca e l'impresa e si è inserita Iorcefo diciamo questo contesto per promuovere la figura del direttore finanziario diciamo un po' come nuovo nuovo diciamo interlocutore tra questi due mondi che avevano cominciato a non parlarsi più è stato un grande un grande vantaggio tante aziende in questo momento diciamo di questo tipo di managerialità ripeto questa potrebbe essere un'ulteriore occasione di superamento diciamo di alcuni modelli passati dei passati e proprio su questo tema del superamento dei modelli passati volevo appunto introdurre e chiedere a Jacopo in questa fase quanto è importante ad avviare una fase proprio di ripensamento dei modelli di business anche in funzione del tema della digital transformation e quindi di accelerare il più possibile la trasformazione dell'azienda e anche a te Jacopo un tuo punto di osservazione perché sei una persona insomma che di queste cose ne vede tutti i giorni quindi che cosa vedi qual è la tua opinione rispetto a questo tema grazie Daniele grazie Andrea non credo che possiamo più porci la domanda se ripensare o meno i nostri modelli organizzativi se ripensare o meno il nostro modello di business oggi dovremmo avere delle organizzazioni che vivono a proprio agio l'incertezza dovremmo vivere delle organizzazioni che riescono ad imparare dal contesto dove vivono e riescono ad implementare quello che imparano nel giro di tre settimane un mese massimo massimo due quindi io credo da una parte che sia necessaria quella pianificazione di cui parlava Andrea prima però pianificazione l'ho vista troppo spesso usare come qualcosa a cui si demandano i problemi io sto pianificando anzi ci metto molto più tempo a pianificare sto demandando alla pianificazione il tutto pianificazione Andrea ha detto in due secondi ha detto che pianificare più volte pianificazione deve essere quello strumento che ci consente di fare bug fixing no di farla e metterla da parte quello che accade spesso quando si parla del business modeling e si realizza magari il business plan si dice questo è il business plan il business plan invece è uno strumento iterativo ok però per essere iterativo deve essere adottato da aziende che lavorano per iterazioni tutte le aziende lavorano per cicli e iterazioni solo che fino ad oggi ci siamo accontentati di vivere in aziende che vivono in cicli da dieci anni oggi stiamo chiedendo alle organizzazioni di vivere in cicli da due mesi ok credo che tutti noi sappiamo che non riusciamo a prevedere cosa succede domani come in quei giorni dove è stato estremizzato tutto dove gli employee non sapevano se dovevano accompagnare i bambini all'asilo o meno non sapevano se dovevano andare al lavoro o meno i datori di lavoro non sapevano dare informazioni il governo non sapeva dare informazioni eravamo in un momento di completa ambiguità ed incertezza però noi nasciamo in un mondo così poi ci siamo voluti narrare di riuscire a prevedere quello che succede domani prevedere e pianificare sono due cose differenti la pianificazione di cui parlava Andrea la trovo determinante perché ci consente di sperimentare e avere nel momento di estrema incertezza la conoscenza dei vari esperimenti come si dice se tu hai tanti fallimenti o tanti successi puoi prendere quel fallimento puoi prendere quel successo e contestualizzarlo in quel momento di incertezza oggi domandarsi se rivedere il proprio modello di business o meno io mi domanderei ogni giorno come ascolto il mio mercato e il mio mercato cosa mi sta chiedendo in questo momento se il mio mercato mi sta chiedendo di rivedere il mio modello di business forse è il caso di farlo però anche lì pensare che io rivedo il modello di business come milestones oriento e provo a motivare nuovi comportamenti all'interno dell'organizzazione come 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 delle attività fatto ok ho rivisto il modello di business ok ho cambiato gli MBO ho cambiato gli OKR della mia organizzazione fatto come qualcosa qualcosa da cercare è altamente altamente fallimentare perché è miope lavora per singola attività e rischi di essere troppo lento per quanto evolve il tuo mercato Andrea ci dava di aziende che avevano casse a due mesi e io ho visto aziende che avevano casse a sei mesi che dicevano non sappiamo che facciamo chiudiamo non chiudiamo come sarà il nostro mercato tra sei mesi e quindi dato che nessuno riesce ad essere Nostradamus ok quello che dovrebbe fare oggi un'azienda è essere allenata a sperimentare e quindi mi domando oltre a se le aziende devono rivedere i loro modelli di business ma le aziende come ascoltano il contesto in cui vivono sia quello interno e sia quello esterno e da quello che ascoltano come riescono ad imparare concretamente riusciti ad applicare nel giro di tre settimane nel giro di un mese questo è il più grande sforzo certamente questa ci dà la capacità competitiva della nostra organizzazione perché sappiamo qual è la velocità con cui la nostra organizzazione riesce a creare vantaggio non so quanti di noi in questa call in questo webinar sono consapevoli della velocità della propria organizzazione nel creare vantaggio nella maggior parte degli incontri che faccio questo è un dato che manca spesso questo è un dato che manca spesso dall'altra parte abbiamo la consapevolezza che covid non è qualcosa che è accaduto adesso e chissà quando accadrà mai Andrea ha detto che gli imprenditori gli italiani ma direi le persone in generale tutti noi abbiamo gran facilità nel dimenticare le crisi ci ricordiamo quella del 2008 ma tra il 2008 e il 2020 c'è stata la primavera araba c'è stata migration c'è stata Hong Kong ci sono stati un po' di terremoti un po' di alluvioni un po' di vulcani in giro per il mondo e quindi c'è stato 1MDB in Malessia ovviamente non tutte queste ci hanno riguardato in modo diretto però voglio dire se in 12 anni ve ne ho citate più di due probabilmente la frequenza è molto più alta di una ogni 5-6 anni ok Andrea è Ligure e sappiamo cosa è successo un paio di anni fa in Liguria per cause naturali quindi voglio dire di avvenimenti ne vediamo tanti la grande capacità è quella di saper sperimentare e saper imparare poi possiamo aggiungere che vediamo delle nuove tecnologie all'orizzonte vediamo brain computer interface vediamo smart dust vediamo isoscheletri vediamo stampa di tessuti organici aerei che volò da soli queste sono tecnologie che di sicuro si affermeranno da qui ai prossimi 10 anni possiamo chiederci come poter cogliere le opportunità che provengono da queste tecnologie perché se le tecnologie ci consentiranno di volare da soli tutto quello che può fare con la tecnologia lo farà non si limiterà a farci volare senza senza pilota prendere queste grandi opportunità calarle non in quello che cambierà ma calarle in quello che di sicuro non cambierà perché la certezza di cosa accade domani non è tanto quello che cambia ma quello che non cambia vogliamo un'organizzazione capace di essere resiliente per essere resiliente dobbiamo conoscere la velocità oltre che avere buone pratiche magari magari di cassa dove sei pronto a reagire almeno 40 di revenue dell'anno in alcune industrie dove siamo presenti l'abbiamo vista questa questa ipotesi di chiudere almeno 40 di sicuro non cambierà alcuni comportamenti essenziali del nostro del nostro cliente e quindi andrei a fondare le ipotesi e la sperimentazione in quello che non cambierà nei comportamenti dei nostri consumatori da lì così essere pronti su tutti i cambiamenti sperimentando dopo sperimentazione avremo tutto il tempo di poter integrare applicare quelle cose che impariamo quello di cui sto raccontando Daniele parliamo delle learning company a cui siamo tanto affezionati tutte le aziende si possono considerare delle learning company la sfida è nel capire in quanto tempo apprende la mia organizzazione e per farlo probabilmente ho bisogno di employee che sono più imprenditori sono degli intrapreneur ok gli imprenditori non sono solo quelli esterni ma sono quelli interni allora come faccio a simulare buone pratiche dove i miei employee li chiamo employee perché dipendente già ci fa partire svantaggiati con un piede nella fossa come gli employee possono avere più poteri nel diventare imprenditori all'interno di quell'organizzazione grazie Jacopo come primo giro di scenario è stato veramente bello a parte il tuo particolare di scenario che sta nel mare che ci rende tutti invidiosi però dico è stato veramente questo webinar lo consigliamo nei licei e nell'università perché belle chiavi di lettura io prima di ripassare per un secondo giro perché abbiamo parlato di scenari forse dovremmo approfondire un po' di quali sono le competenze qui in questo tavolo virtuale sono delle competenze veramente che nei loro campi sono eccellenze tra l'altro richiamo di Jacopo alla sperimentazione poi Daniele alla fine dirà il programma che abbiamo lanciato Phoenix è proprio una sperimentazione però invece essere aziendale è peer to peer cioè pluri aziendale con pluri competenze sulla sperimentare a livello di ecosistema quello che volevo dire invece da moderatore si vede che non è il mio mestiere che se ho visto ci sono diverse persone che seguono questo questo webinar se volete fare domande a noi ci fate potete scriverle nella chat il nome e cognome noi vi chiameremo perché sarebbe bello farle live in caso contrario perché per i più timidi si possono anche scrivere nella chat ci piacerebbe insomma che chi vuole fare domande intervenisse live così la regia viabilita e diciamo per il secondo giro ripasso la parola Daniele sulle competenze sulle competenze innanzitutto diciamo già Jacopo ha introdotto un po' il tema perché quando dice la sperimentazione la velocità l'incertezza questo pone di fronte le organizzazioni a una nuova sfida allora io credo diciamo che un po' tutti in questa situazione abbiamo bisogno di recuperare il valore delle competenze questa è una cosa un po' in qualche modo sottostimata a mio avviso diciamo in passato e il saper fare il saper pensare il saper fare sono due cose che vanno messe insieme credo dalla nostra osservazione che ci siano delle competenze nuove che siano quelle della coprogettazione della copartecipazione cioè probabilmente in questa in questa situazione possiamo imparare a vincere insieme quindi a passare da un modello diciamo singolo competitivo a un modello diciamo di appunto di rete di gruppo di ecosistema di bene comune per due motivi in sostanza perché tutte queste trasformazioni richiedono degli investimenti degli investimenti di competenze di intellectual brain di knowledge e sono e sono delle cose complesse da realizzare allora forse investire in un ecosistema che in qualche modo ridistribuisce queste risorse come un servizio può avere un aiuto proprio materiale economico che questa cosa è efficiente da una parte e soprattutto poi dall'altra che ability delle collaborazioni degli scambi perché se anche ho capito dove andare ma non ho poi le risorse allora ho bisogno di fare delle partnership e delle alleanze questo questo credo che sia per venture thinking un salto di paradigma cioè ragionare in maniera non di che cosa ha bisogno la singola ma di che cosa ha bisogno l'insieme e investire sull'insieme e poi ridistribuirlo questo diciamo è il punto è un punto per noi importante sì ok volevo fare insomma utilizzare un po' la grande esperienza anche di Andrea per tu ne hai viste tante ne stai vedendo tante anche adesso prima prima di iniziare ci raccontavi alcune anche esperienze innovative che insomma ripeto questo periodo ci ha un po' frastronati tutti ma ci ha anche costretti a essere più creativi del solito e secondo te se tra le mille competenze un po' ce l'hai già accenato però sulla tua focalizzazione cioè qual è di cosa ha bisogno la PM italiana se dovessi fare due 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 focus su cosa veramente ha bisogno la PM italiana per cercare di utilizzare questa crisi per rafforzarsi ok beh allora intanto ripeto parto un po' da quello che ha detto Jacopo no? perché Jacopo diciamo lo scambio tra me Jacopo dà la misura di quanto sia importante l'interdisciplinarità no? che vedere un colloquio diciamo magari un po' più tra virgolette razionale diciamo che può essere il mio no? dire finance magari un po' più tradizionale no? e con la visione che invece rappresenta degli scenari che spesso per le nostre piccole medie intendo deve fare un ragionamento così o un imprenditore qualcuno ti potrebbe anche dire guarda di che cosa mi stai parlando però è un valore aggiunto straordinario voglio dire per cui questo credo che sia già un punto di partenza no? la multidisciplinarità anche per riprendere un po' i temi del progetto Jacopo ha detto una cosa bellissima voglio dire no? che ha detto le cose che non cambiano e vorrei sottolinearla perché si rifà un altro punto il progetto cioè che cosa non cambierà secondo me a breve è l'approccio umano cioè l'uomo non cambia tendenzialmente diciamo gli atteggiamenti dell'imprenditore no? in qualche modo sono in quanto uomo sono anche abbastanza codificati e questi spesso non cambiano dall'aspetto umanistico e qui mi rifaccio un po' appunto al tema di guardare l'azienda non solo con l'occhio diciamo tecnico dell'esperto finanziare digitale eccetera ma anche con l'occhio un po' filosofico no? da questo punto di vista quindi credo che questa sia una chiave di lettura piuttosto interessante se posso raccontare un piccolo aneddoto così io volevo studiare filologia perché io ho sempre amato molto la parte classica no? poi i miei genitori mi hanno costretto ad andare alla Bocconi sono stato contento mi è sempre un po' sempre un po' rimpianto questa cosa ma i miei genitori hanno sempre detto vedi però hai fatto tante cose per questo motivo finché non ho incontrato un amministratore delegato di una banca che era un filologo e mi ha detto forse qualcuno magari non lo cito però diciamo era un filologo che è diventato amministratore delegato di una grande banca lo sono stato ai miei genitori e ho detto vedete allora si può pensare di arrivare anche ai vertici della finanza partendo da discipline umanistiche questo per dire che appunto la persona va giudicata in questo modo però per tornare alla domanda di Emiliano non è una domanda semplice perché è chiaro che come dice Jacopo in uno scenario così cangiante l'abbiamo chiamato VUCA i tecnici chiamano così quando il linguaggio militare volatile incerto eccetera eccetera quali competenze servono sicuramente la capacità di imparare non c'è dubbio secondo me prima di questa non è una competenza tecnica ma è una competenza diciamo umana un po' il problema dell'imprenditore che non vale solo per l'imprenditore ma l'imprenditore a volte da questo punto di vista è un po' più difficile è proprio il fatto di dire ho sempre fatto così e devo continuare a fare così anche quando c'è uno scenario completamente mutato paradossalmente proprio perché è mutato l'imprenditore non sa affrontare quello nuovo si rifugia diciamo un po' nel passato tante volte io ho visto esempi di aziende che avevano dato deleghe magari a manager poi quando c'è stato il momento nel quale c'è stata la crisi non colpa di manager naturalmente ma l'imprenditore invece di fare uno sforzo in avanti ha fatto è tornato indietro e questo sicuramente è un tema su cui bisogna riflettere cioè pensare che una competenza umana come ha detto Jacopo è mettersi sempre in discussione perché come ha detto Jacopo voglio dire i modelli di business adesso cambiano veramente ogni due ogni due mesi no? e sarà sempre peggio peraltro voglio dire ancora non abbiamo idea quindi sicuramente bisogna stare a piedi per terra e poi io quando mi riferivo alla pianificazione mi riferivo soprattutto al fatto che l'imprenditore ragioni in questa maniera nel senso no? perché se tu ragioni fai tanti scenari però in qualche modo non le riesci a codificare e a renderli intellegibili per diciamo gli altri stakeholders allora questo diventa un po' un problema no? se rimane tutto nella tua testa in fondo la pianificazione come il business plan serve in primis all'imprenditore per capire quello che vuole fare e analizzare i vari scenari no? però è anche vero che il tema il tema dello scenario è un tema particolarmente importante in questo senso io come dico sempre ho fatto studiare la mia figlia scienze umane no? perché come dice Arari saranno molto più importanti diciamo le tematiche umanistiche le materie umanistiche malgrado tutti vogliono queste materie stem voglio dire però le materie umanistiche saranno probabilmente più importanti perché saranno le uniche che non si riusciranno ancora a far sostituire dall'intelligenza artificiale quindi secondo me questo programma è proprio già proiettato molto 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 in avanti e mi faccio grazie Andrea siamo insomma veramente una bella galuppata io chiederei un flash a Jacopo su un tema per il quale io l'ho conosciuto insomma ripeto io quando l'ho conosciuto lui si presentava come digital life coach siccome in questo questo io credo sia una delle tematiche più abusate in questa fase il tema di digitalizzazione però anche forse usate ed abusate nel senso che ora ci sentiamo tutti campioni digitali perché siamo stati costretti a lavorare da casa col computer però le competenze digitali sono un'altra cosa a me ha colpito Jacopo che nell'iperconnessione di tutti lui ha tolto whatsapp dice ma come da un digital life coach cioè qual è la chiave in un flash se riesci Jacopo così poi presentiamo il programma Phoenix qual è la la competenza chiave cioè la sfida chiave la spia che ci indichi da tenere a bada un'azienda da tenere a bada sul tema del digital sul immenso tema del digital digital per molti è fare qualcosa di eti io le aziende meno digital che ho incontrato nella mia vita sono le aziende di eti digital per molti è fare le start up ma molte aziende molte start up non sono sono tutto forché digital quindi io credo che digital l'economia digitale ci abbia insegnato due grandi cose negli ultimi vent'anni una è il feedback continuo e l'altra sono i dati in tempo reale digital non è nient'altro che riuscire a vivere l'economia in modo organico come viviamo la nostra vita se tu ti tagli il dito adesso in questo momento te ne accorgi subito e in questo momento le piastrine vanno subito a costruire una crosticina perché la leadership è lì dove deve essere in quel momento e deve essere nelle piastrine la leadership ok quindi digital ci sta consentendo di vivere un'economia in tempo reale ci sta consentendo di lavorare realmente su feedback continuo ok perché non lo scopri dopo due giorni che ti sei tagliato il dito dopo una settimana ma lo scopri in questo istante e digital ci consente di ottenere così una leadership non più centralizzata ma distribuita quindi se vogliamo capire lo stadio di digitalizzazione della nostra azienda più di contare quanti smartphone o laptop hanno i miei colleghi o vedere quale sistema ERP stanno utilizzando prima di andare sul tool sullo strumento sul dispositivo andrei a domandarmi come posso lavorare un po' più sul feedback continuo come posso aumentare e velocizzare i feedback tra tutti noi certamente gli strumenti device ci aiutano ma nella fase di requisiti e comprensione dello stato mi domanderei un po' di più quanto riesco a sfruttare i dati in tempo reale quanto riesco a lavorare sul feedback continuo quanto riesco ad implementare quello che osservo dei dati e quello che ricevo dai feedback questo per me è digitale poi tutto il resto certamente impatta su processi impatta su marketing impatta su business modeling impatta su modelli organizzativi e impatta su tutta la nostra organizzazione proprio per questo credo che nel 2020 digital e digital skills siano qualcosa di completamente trasversale non sono solo più nell'unità marketing o nel finance o nel digital manager ma per vado completamente tutti se lo chiudiamo da qualche parte digital a quel punto non è più digital perché lo stiamo già censurando grazie Jacopo quindi digitale come cultura e non come strumenti mi sembra una cosa insomma conoscendoti non mi torna nuovo però di sentirla così è di nuovo illuminante io direi siccome molti delle tematiche abbiamo detto come scenario in realtà stanno tutti nel programma Phoenix non è un caso perché poi non è gli webinar li organizziamo a caso stiamo parte ne facciamo avventure insieme io chiederei a Daniele come tutto questo scenario cultura stimoli incontri venture thinking e tutta insomma ripeto personaggi italiani ci ha sorpreso anche come professori di Stanford Pittsburgh hanno aderito con una velocità incredibile cosa venture thinking propone di concreto alle PMI però direi all'ecosistema perché se non ci fosse l'ecosistema le PMI da sole sono oggetto di questo progetto perché c'è l'ecosistema e le sostiene quindi come funziona il programma Phoenix concretamente perché ripeto è nata una riflessione ma è una proposta concreta quindi chiedere a Daniele di raccontarci di raccontarci un po' ma poi magari se c'è qualche stimolo e qualche domanda chiudiamo con le domande molto volentieri innanzitutto volevo dire ad Andrea che a mio avviso ha fatto bene a dare quel consiglio alla figlia quindi è nello spirito dell'iniziativa mi sento un po' mi sento diciamo non so quando tutti parlano sempre di questo VUCA voglio dire però di questo di queste stelle sono un po' corretti allora guarda Emiliano in prima battuta volevo dire questo che dall'atto della fondazione di Venture Thinking appunto abbiamo voluto unire delle personalità che sono diciamo 50% del mondo del business ma 50% del mondo della filosofia e quindi abbiamo già oggi una sessantina di membri che sono sia italiani che esterni e devo dire anche dal punto di vista personale l'incontro in alcune sessioni con queste personalità è veramente arricchente perché il fatto di avere visioni diverse arricchisce la discussione e soprattutto permette di uscire da una dinamica ripetitiva ma per quanto riguarda il programma cerco di andare di andare veloce ma dal 2 di maggio ad oggi come dicevo prima abbiamo ricevuto circa 600 candidature di piccole e medie imprese e abbiamo parlato direttamente o con gli imprenditori o con gli amministratori delegati di queste realtà e sono usciti fuori diciamo come problematiche reali pragmatiche quindi usciamo dalla fase teorica ma entriamo nella parte pratica tendenzialmente quattro grandi esigenze la prima è stata detta e descritta in abbondanza in questo webinar che viviamo in una situazione complessa complicata di incertezza e di forte velocità nella decisione il secondo punto è la resilienza commerciale Andrea l'ha detto benissimo ci sono state aziende che hanno avuto un calo del fatturato drammatico dell'80% e anche superiore quindi come si fa a gestire una situazione del genere dal punto di vista dei costi fissi con costi variabili di ricavi che cambiano in così modo e quindi un'esigenza appunto è capire quali sono i nuovi servizi nuovi mercati come reinventare il business e metterlo in piedi la resilienza finanziaria è stato un tema fondamentale anche discusso in questo webinar la pianificazione la cassa la disponibilità e in ultimo dove c'è un po' più di capacità dice ok ci accorgiamo che dobbiamo reinventarci ma le competenze per affrontare una digital capability quindi una capacità di trasformazione digitale non le abbiamo e vorremmo vorremmo averla e da queste diciamo da queste osservazioni tendenzialmente diciamo nasce il progetto Fenix poi Fenix prende appunto il nome dalla Fenice insomma che è simbolica ma tendenzialmente la sua peculiarità la differenza qual è? Ma il programma vuole riunire in tre edizioni diciamo 450 CEO o imprenditori di piccole e medie aziende in realtà il target che abbiamo scelto è un target medio quindi da 15 milioni di fatturato in su queste 450 PMI saranno però messe in un ecosistema appunto che prevederà circa 80 90 grandi clienti cioè quelli del tipo A e circa 70-80 noi chiamiamo business coach mentorship coaching sia del mondo accademico ma abbiamo ricevuto e questo è veramente una cosa interessante nell'ultimo periodo un meccanismo di solidarietà di tanti manager che hanno competenze anche nelle grandi aziende e che si sono messi a disposizione per rivedere i business plan e i piani questa modalità diciamo è una modalità di un ecosistema che ha delle fasi come si vede nella tavola cioè l'approccio è molto pratico l'imprenditore la PMI che entra entra portando in dote subito il suo problema ho questa azienda ho questa struttura come mi potete aiutare a rivedere il mio piano e quindi abbiamo congegnato delle fasi la prima fase è proprio quella che noi diciamo di accelerazione ecosistemica che dura circa 10 settimane il cui obiettivo principale è quello di uscire fuori da queste 10 settimane con un'idea di piano almeno di sintesi in cui identifico la bussola la strada per il futuro questo lo faccio affrontando il tema della crisi del business ma soprattutto lo faccio con i miei pari con i CEO delle aziende con un coach che mi aiuta cioè con tutte le risorse che mi possono aiutare a rimodulare questo tema una volta uscita dalla prima fase di inquadramento che noi diciamo di orientamento esistono altre due fasi in particolare la prima e mi fa piacere che sia uscita oggi la parola è la fase di sperimentazione dove ho idea della bussola ma sperimento delle cose come un po' hanno detto Andrea e Jacopo quindi mi metto in moto e le provo le testo e se da quegli sperimenti ne traiamo qualche cosa di positivo c'è una fase che è chiamata di scale up cioè di come posso avvantaggiarmi rendere quella sperimentazione positiva un fattore competitivo una cosa su cui diciamo moltissimi imprenditori ci hanno ci hanno sollevato è di non avere solo questo in digitale ma anche ad avere oltre agli incontri mensili e avere dei consigli nella storia due cose in particolare di avere accesso o una possibilità di raccontare la propria storia di trasformazione nei media nei web nei giornali e per questo stiamo facendo delle partnership con dei media player che possono raccontare la storia degli imprenditori e in ultimo anche però avere poi il contatto e la permanenza fisica con questo network durante l'anno e ritrovarsi anche nella fase di trasformazione dopo un certo periodo in un luogo in un luogo fisico per coltivare le relazioni accenno brevemente al programma per dire soltanto la struttura non è un programma di learning di ascolto è un programma molto pratico l'80% delle sessioni sono tra pari di esperienze concrete sulla risoluzione dei problemi ci sono in particolare due moduli importanti che è l'execuo di Circle dove 7-8 imprenditori si riuniscono ciascuno spiega il proprio problema e beneficia dei consigli degli altri coadiuvati da un mentor e questi consigli che poi vengono messi su una piattaforma digitale vengono anche in qualche modo fatti dei challenge dagli altri e si ha la possibilità di partecipare a tutti e nel momento in cui trovo in qualche modo individuo una soluzione si pone il tema anche di dove trovare le risorse allora una dinamica tipo quella del give and take in cui io posso fare qualcosa per te e tu puoi fare qualcosa per me agevola e accelera quello che anche Jacopo ha detto la velocità dell'aiuto e della collaborazione tra pari la struttura di questo programma e i soggetti che partecipano come abbiamo detto il soggetto cardine è la piccola e media impresa ma abbiamo voluto in qualche modo specializzare anche un po' il tessuto delle caratteristiche del mercato e quindi qui vedete delle figure che si chiamano tutor di filiera ogni mercato è diverso e quindi un'azienda che appartiene alla manifattura o la logistica o la salute avrà degli insight con delle statistiche dei dati specifici di quel mercato e soprattutto delle aziende che magari possono anche dare la possibilità di dare dei lavori degli incarichi premiare appunto questi fornitori e questi sono appunto i tutor di filiera poi ci sono dei soggetti più trasversali che sono indipendenti dall'aiuto dal settore merceologico ma sono le banche ad esempio ho citato i broadcasting e i media cioè che possono fornire dei servizi che vanno bene per tutti faccio un esempio pragmatico dopo la fase di sperimentazione se ci sarà l'opportunità di fare una fase di scale up beh sarà molto importante anche il supporto finanziario e quindi i partner che entrano in questo ecosistema affrontano tutte quelle quattro sfide e le trasformano in una possibilità molto importante il tema dell'advisory board con i contributi dell'accademia e dell'università e è vero che l'accademia a volte può dare degli stimoli a medio e lungo termine ma è molto importante avere la direzione e soprattutto direi in questa parte lo trovate dal punto di vista delle corporation l'esperienza di manager che hanno possono trasferire il knowledge e qui anche l'esperienza di your group è fondamentale in questo senso cioè le competenze nelle grandi ci sono ma possono essere messe a disposizione anche diciamo dei piccoli in maniera ecosistematica perché una piccola e media impresa dovrebbe partecipare a questo programma e con chi l'abbiamo fatto? Innanzitutto l'abbiamo fatto con due partner di rilievo di eccellenza la prima organizzazione che ha in qualche modo ritenuto di appoggiare questo programma è la IES Business School vorrei ricordare diciamo che dal punto di vista della business education è la prima università al mondo superiore a Harvard e altre e altre università blasonate sul tema appunto della professionalità del business la IES è aderito a questo progetto per un tema appunto di contingenza ma soprattutto per mettere a disposizione del knowledge in maniera devo dire semi gratuita quindi ha fatto uno sforzo grandissimo nel fornire questo programma in un meccanismo di solidarietà e l'altro l'altra grande organizzazione è il campus biomedico e perché due organizzazioni del genere beh perché la crisi non dimentichiamocelo è nata da da un fattore di ecosistema naturale e tra l'altro diciamo un virus ha una caratteristica diciamo di espansione l'abbiamo vista sulla nostra pelle esponenziale allora abbiamo ritenuto che l'unione di una grande di una grande scuola di una grande istituto di formazione più l'unione di un grande istituto di filosofia ma anche poi della comprensione dei modelli ecosistematici potesse dare un valore e avere la possibilità di questa eccellenza a un prezzo veramente diciamo scontato in un anno per poter avere supporto di altri pari e di fare una cosa concreta abbiamo ritenuto che era un'opportunità da fornire volevo diciamo ricordare una cosa importante che rispetto ad altre iniziative che ci sono sul mercato la nostra si pone in maniera umile cioè non abbiamo la presunzione di voler risolvere il problema ovviamente italiano ma vogliamo abbiamo voluto costruire questa iniziativa per dare un aiuto concreto e poi finiremo a 450 cioè un target specifico di aziende e ovviamente provare rafforzare diciamo con le competenze che ci sono oggi il fatto che insieme si può si può in qualche modo avere un vantaggio competitivo non è un'iniziativa di venture capital anche se il nostro ha un'accelerazione di imprese ma è un'iniziativa ecosistemica tradotto non vogliamo che da 450 siano 3-4 quelle fortunate ma speriamo appunto che tutte possano possano partecipare abbiamo avviato nel nostro sito la campagna di selezione ci auguriamo che questa possa possa continuare e il 15 di settembre stiamo per partire con la prima con la prima edizione grazie un ringraziamento ai partner che ho già citato insomma IESE Campus Biomedico e FM per la piattaforma ecosistematica grazie Daniele abbiamo 5 minuti proviamo a essere puntuali io abbiamo un po' di domande ne faccio una e poi magari facciamo insomma chiediamo anche Andrea e Jacopo un flash sul perché per una PMI possa valere la pena partecipare all'iniziativa del genere la domanda è questa se la fa Alessia Limone e il tema è che se abbiamo detto che la sfida di questo tempo è l'incertezza se soluzioni di carattere ecosistemico possono aiutare a viverla credo che la domanda sia il concetto stare solo rispetto a stare insieme come può cioè l'incertezza da un lato la collettività ti ha complessità però ti dà la possibilità di non essere solo se questo progetto ha questo come ispirazione ha come diciamo finalità quello di vivere e di affrontare l'incertezza e la complessità non so Daniele se ma sì diciamo appunto la risposta è affermativa quindi abbiamo ritenuto appunto di creare un progetto che noi chiamiamo di innovazione solidale che è nuovo come concetto cioè di innovazione non soltanto per le start up ma per aziende esistenti per non perdere il knowledge e di farlo in maniera comune collettiva con uno spirito di partecipazione proprio per fare in modo che queste competenze possano essere messe a disposizione e condivise ok allora io insomma per salutarci chiederei un minuto a Andrè un minuto a Jacopo se diciamo essendo questo pezzetto di strada in comune ma ne abbiamo fatte tante di cose insieme se possono insomma un minuto per cui raccontare se come se da questa parte dell'altra parte dello schermo ci fosse un C un C level di una PMI una motivazione per cui poter potrebbe valere la prima partecipare a un programma come Phoenix Andres è mutato riprendo diciamo proprio il nome di venture thinking io ho scritto qualche tempo fa un articolo ormai che cito spesso proprio sul mondo del venture capital dove dicevo le startup italiane hanno molto più bisogno di competenze che di soldi voglio dire no e quindi lo ribalto anche sul mondo delle PMI le PMI italiane hanno molto più bisogno di competenze che di soldi voglio dire e questo già lo scrivo anni fa adesso ancora di più quindi io credo anzi vorrei poter partecipare alla fine diciamo di questa cosa mi dite dove devo firmare vorrei partecipare pure io perché è chiaro che ci sono tantissimi motivi per farlo c'è un motivo di community che è straordinario anche se è venuto fuori nella domanda scambiarsi delle opportunità c'è un motivo di networking c'è un motivo appunto di tenerti sempre aggiornati su come sta andando il mondo diciamo non solo peraltro c'è anche un tema internazionale importantissimo cioè non dimentichiamo che uno dei problemi della piccola media di presa italiana è proprio quello di essere un po' provinciale cioè dobbiamo anche un po' sprovincializzarci da questo punto di vista perché poi in Italia succede sempre diciamo vent'anni dopo quello che è successo anche Fractional Execut che tu hai citato all'inizio in fondo in America c'è da 30 anni noi abbiamo parlato in Italia e sembra un po' la novità allora quindi per dire che tra le tante cose che ho detto secondo me anche l'idea di avere una visione internazionale non per essere i soliti esterofili ma sicuramente voglio dire ci sono certi paesi che sono sicuramente un po' più avanti può creare un grandissimo vantaggio competitivo tu riesci a fare delle cose che vedi delle cose che potresti mettere in pratica molto prima degli altri perché in altri paesi le hanno sperimentate e hanno funzionato quindi io dovrei trovare i motivi non ci sono motivi per non partecipare ok grazie Jacopo poi abbiamo una domanda finale per Daniele che ci è arrivata però intanto lascio a Jacopo un minuto di lancio sì io mi domando sempre perché ci domandiamo se lavorare o meno in modo ecosistemico io sono un po' figlio della digital economy ok e la digital economy è una cosa che ci ha insegnato è la capacità di lavorare per integrazioni lavorare in modo totalmente ecosistemico quindi prima dicevamo che l'imprenditore non è solo quello fuori che crea l'azienda ma anche quello che ne partecipa e lo stesso la nostra azienda non è solo l'azienda con i nostri 20, 50, 300 mille dipendenti e quant'altro ma è la nostra filiera integrata con le altre del mercato per questo credo che è un'occasione da non perdere questa che avete creato che avete generato di cui mi complimento perché è il modo naturale per vivere in modo ecosistemico il nostro mondo ma io lo trovo una cosa ovvia dover agire in questo modo ma perché tu vivi già nel futuro capisci quando si lavorerà il smart working giustamente dal mare io lo dico sempre quando parliamo dello smart working dico sempre lo smart work ci dovrà permettere di lavorare dal mare Jacopo che già nel futuro ci parla dal futuro ok allora io chiuderei visto che c'è una domanda finale anche piuttosto pratica il che vuol dire che oltre a scenari abbiamo dato aspettative tu l'hai accennato Daniele però forse se non è anche utile ribadirlo visto che anche la fattibilità del programma è stata attivata grazie a questa che poi chiamate innovazione solidale il contributo di grandi verso piccoli la domanda di Stefano che chiede qui in chat qual è l'impegno economico per una PMI qualora fosse scelta questa è la domanda che ti fa Stefano allora diciamo siamo questo devo dire un ringraziamento diciamo personale alla richiesta che abbiamo fatto a Iesi a Campus di definire questo programma in maniera appunto solidale e il costo dell'accelerazione per le prime 12 settimane siamo arrivati diciamo da un valore commerciale di 20-22 mila euro a 4 mila euro iniziale non ci siamo fermati però perché abbiamo voluto diciamo rispetto a questi 4 mila euro come dicevo prima coinvolgere le corporation e quindi attivare anche un meccanismo di innovazione solidale ad oggi diciamo il prezzo è 4 mila ma stiamo lavorando affinché per la piccola e media impresa in termini di programmi di social corporate responsibility e anche di coinvolgimento della filiera il settore delle aziende di classe A cioè quelle in qualche modo che abbiamo citato prima in crescita possano dare un loro contributo alle start-up e quindi vorremmo arrivare a un pricing di mille questo è ancora diciamo è ongoing quindi la risposta netta ad oggi ma vedremo nelle prossime nei prossimi giorni è che il prezzo diciamo delle prime 12 settimane è 4 mila e un target price che vogliamo donare col contributo di mille ok io non dico quanto hai pagato te il corso inglese che non è simile però insomma è vero che 4 mila euro è veramente è la voglia di rendere possibile a tutti questo percorso di crescita comune allora io sì insomma invito tutti per in coda a quello che ha detto Daniele fra qualche giorno domani o dopo domani riceverete i partecipanti una mail di follow up per dare qualche riferimento ci sono anche sul sito tanti contenuti speech degli scorsi tanti personaggi veramente di primo livello mondiale lo dico non per dare enfasi ma perché è vero e però ci sarà anche un questionario proprio perché noi per candidarsi perché noi chiaramente apriamo a tutti però volendo tenendoci alla qualità dell'ecosistema e alla possibilità di un corso anche internazionale ci fa piacere accompagnare non mandare la sbaraglio la PMI però insomma darvi una prima possibilità di candidarsi attraverso una delle semplici risposte e quindi in questo modo potremo poi se siete interessati insomma continuare la relazione per darvi vi aggiorneremo anche se questi meccanismi dice a Daniele di tentare addirittura di abbassare ancora questo pricing che comunque sia insomma importante verrà attivato vi mettete nella newsletter e vi terremo aggiornati io ringrazio tutti davvero perché tanti stimoli tanti scenari e tanta voglia di fare a me è venuta in quest'ora perché la voglia di sperimentare per usare il termine di Jacopo anche a stare al mare dove sta lui però ringrazio davvero tutti insomma i panel gli speaker e chi ha partecipato seguite su venturethinking.it sui nostri social trovate insomma gli aggiornamenti noi faremo fino a fine luglio avremo degli altri insomma davvero approfondiremo tutte queste nuove competenze o competenze vecchie rinnovate per prepararsi alla crisi quasi tutti i giorni siamo online per fare questo viaggio grazie davvero ad Andrea Petrini a Jacopo Mele a Daniele Di Fausto e insomma alla prossima grazie alla prossima grazie 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 grazie